prontissimo per una nuova puntata di risate di strada michele voglio chiedermi un dubbio come mai nei ristoranti genovesi io non riesco mai a vedere il conto perché non perché c'è buio pesto c'ha ragione posso farti una domanda non so se mi spiego come disse il paracaduto ormai fanno tutto loro eccoci qui in compagnia di un baldo giovane che si chiama mattia mattia già energico è bravo bravo mi piace la tua energia mattia senti mattia ma se ti chiedo cosa dice un pomodoro quando si alza la mattina salsa pietro senti ma come si salutano le galline se beccamo domani qual è il pianeta preferito da maurizio costante nettuno speriamo di avervi fatto divertire anche questa settimana mi raccomando seguite il tg events ed anche risate di strada